Allora, mi è piaciuto tanto la tono di quella ragazza, sinceramente, c'è un bel tono, c'è anche tanta forza sulla voce, è una bella cosa di 22 anni, ci vuole un bel pop per arrivare, secondo me, a quella forza. Mi è piaciuto anche quando cantate in inglese, diciamo che ha detto abbastanza bene le parole un pochino. Lo vedi? Mica per niente c'è con noi Bradley Cotton, questo è importante. No, è veramente brava. Bradley, ricorda di dove sei tu, per favore? Come? Where are you from? I'm from London. E quindi lui c'è un perché, insomma. Allora, me li rimetti qua. E poi deve pagare la cena a dieci amici, perché la lasciate in inglese. Capito? Però ha preferito essere con noi e di questo ti ringraziamo davvero. È un piacere di averti con noi. Grazie. E quindi Lucia De Santis è piaciuta, è piaciuta la nostra giuria. Vi ha ricordato il numero degli SMS. Io vi ricordo che grazie a Green Stage potrete vedere o potrete dire a qualche parente, qualche vostro amico che si trova a casa e questa sera non è potuto essere qui, che l'evento di questa sera è trasmesso in radiovisione su greenstageradio.it e su greenstage.it. E poi, ultima informazione. Sentite il jingle. E questo era il jingle. Ultima informazione. Se ci fosse qualcuno là in mezzo, fra di voi, che volesse cantare, volesse provare a cantare nel prossimo appuntamento del mio canto libero, inviate un'e-mail a castchiocciolagreenstage.it. Perfetto. E allora, prossima cantante in gara a questo punto. Ho dimenticato nulla? No, dite, ma no. No, no. Vera Torrisi, come va? Tutto bene? Bene, grazie. Allora, a questo punto chiamiamo, pronti con l'applauso, un'allieva di Murie Mamusi. L'ho beccata stavolta, sì. C'è con noi, in gara, Debora Romani. Più forte l'applauso, signore. Un'altra giovanissima. Allora, Debora, quanti anni hai? No, no, sei c'è a micro, non funziona, sì, sì, sì. 13. No, ridillo più convinta. Quanti anni hai? 13. Eh, vabbè, insomma, era un po' meglio. E di dove sei? Eh, Scastaridaldi. Quindi sei Umbra, anche tu, naturalmente. Quanto tempo è che canti? Eh, tre anni. Ha cominciato a dieci anni, ragazzi, eh? Bene. Che canzone ci fai sentire questa sera? Eh, New York, New York e Non credere. Non credere di Mina? Sì. New York, New York, con una sonora di Lainza Minelli. Sì. Frate, sei pronto? Sì. Ok, perfetto. La giuria è pronta. In regia siamo a posto, partiamo con New York, New York. Sì. Signori, al mio canto libero, Samba Universiti, Deborah Romani. Sì. Grazie. Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Brava Deborah Romani Che voce Deborah Il microfono te lo porti via? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti